Ciao ragazzi sono SuperSeba e benvenuti in questo nuovo video Allora, adesso parliamo seriamente Ieri sera non ho potuto fare il video perchè avevo l'iPad scarico e qui non sono riuscito a farlo Adesso lo sto facendo addirittura oggi Comunque, adesso finchè troppo è troppo Adesso finchè troppo è troppo Questi ancora sti maledetti Ethers Che ce n'è stato solo uno ieri sera durante la live Dell'episodio dell'Accardione Natore con il Parma su Fio21 Ieri sera c'era un certo Cristian Lanta falso Che mi continuava a scassarmi i coglioni A scrivere delle fake news Che non esistono nel cielo e in terra E comunque ragazzi sono notizie false Non fidatevi di questo qui Perchè questo già ormai mi ha scassato completamente i coglioni E quindi Sono cose che a me mi danno veramente fastidio E io voglio mettere in chiave appunto queste regole Queste sono le regole Io come avevo già detto in un video precedente Fare voglio gente pulita Voglio gente pulita che come i miei colleghi youtubers Vincenzo e Carlo Tutti gli altri miei amici che mi seguono Eccetera Che chiedono sempre Io voglio gente pulita Che vanno a vedere i miei video E le mie live registrate Quando devo andare a mettere mi piace Commentare Iscrivervi al canale Questo ve lo dico sempre Ogni volta che finisco un video Questa è la prima regola che vi ho detto La seconda Il primo haters che salta fuori O durante le mie live O nei commenti di uno dei miei video Io lo banno Lo banno direttamente Lo elimino assolutamente E quindi Ragazzi Questa cosa dovete fare molta attenzione anche a voi Perchè a noi youtubers Non ci piace Non ci piace vedere C'è tipo Per esempio Cristallata falso Che mi continuava a scassare i coglioni Scrivendo delle fake news Che non esistono Né in cielo né in terra Sono soltanto delle fake news Che a me mi hanno dato completamente fastidio Mi hanno proprio scassati i coglioni E io questa cosa Non la sopporto Questa cosa non la sopporto Perchè mi hanno completamente rotto i coglioni Adesso basta Adesso basta Questa è l'ennesima volta che faccio un video In cui Mi metto contro gli edes Che prendono di mira il mio canale Che vengono a scrivere delle notizie false Oppure Chi mi viene ad insultarmi Dicendo parolacce Che tra l'altro Quella cosa è successo qualche mese fa E a me questa cosa A me non mi piace Queste sono le regole che vi ho detto Il primo Voglio solo gente pulita La gente che sono bravi Come me Come tutti i miei colleghi youtubers E tutti i miei amici Che mi seguono Di mettere mi piace Lasciare i commenti Iscrivervi al canale Di andare a vedere i miei video O le mie live registrate Questa è la prima regola La seconda Il primo haters Che salta fuori Io lo banno E lo elimino Immenatamente Perché a me mi ha completamente rotto le scatole Mi ha completamente rotto le scatole Di questi haters Soprattutto cristallanta falso Che mi ha scassato veramente i coglioni E io non lo sopporto più Quindi se stai guardando questo video Spero che lo capirai E che te ne vai A quel paese E non mettere più piedi qui nel mio canale youtube Quindi Comunque ragazzi Mi sono un po' sfogato Di questa situazione Che da giorni Che mi sta ancora continuando E io non ce la faccio più Mi sono proprio rotto le scatole Di vedere Di questo qui Che mi scrive Delle notizie false E Secondo me Sarà un malato mentale Ragazzi Fate molta attenzione anche voi Comunque ragazzi Mi sono sfogato abbastanza E spero che questo video vi sia piaciuto Vi ricordo di lasciare a me Mi piace Commentate Iscrivetevi al canale Fate tanti clic 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 Mettete la campanella Qual è lo super 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 è tutto E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao alla prossima